Il clan Mallardo rappresenta sicuramente una delle realtà criminali predominanti nell'Italia meridionale in forte espansione rispetto a quello che ne è stato il ruolo in precedenza e ovviamente non può in questa valutazione prescindersi dal fatto che i casalesi hanno subito negli ultimi anni colpi che li hanno profondamente indeboliti e che l'organizzazione criminali dei Mallardo per sua tradizione storica per territorio controllato, per numero di affiliati tuttora in libertà è sicuramente in grado di espandersi sul territorio anche già controllato dal gruppo dei casalesi. Solo qualche giorno fa però c'è stato uno strano avvenimento proprio all'interno del mercato ortofrutticolo di Giuliano dove una persona è stata sparata, un uomo, però non ha dato una chiara versione dei fatti di quello che è accaduto. C'entra qualcosa? Su questo abbiamo indagini in corso ovviamente e non possiamo anticiparne i contenuti in questa sede. La vicenda che abbiamo ricostruito stamattina prescinde ovviamente dal riferimento a questo episodio.